Sull'immigrazione il Governo nazionale viene meno alle sue responsabilità sulla prima accoglienza e i comuni si trovano in grande difficoltà. Servono le risorse, serve l'individuazione delle strutture adeguate, pensate ai minori non accompagnati, su cui i comuni vengono lasciati soli e servirebbero molte risorse da parte nazionale. Ma anche sull'accoglienza diffusa serve una regia, il Governo non li convoca e c'è una grande difficoltà. Io credo che non sia un modo serio per gestire gli arrivi e serve che invece il Governo convochi a più il presto i sindaci e mettano in campo una regia nazionale che assicuri l'accoglienza diffusa che è anche l'unica accoglienza che garantisce inclusione sociale sui territori, servizi adeguati e il coinvolgimento delle comunità locali.